Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con Mab Business Stories L'ospite di oggi per me è particolarmente importante perché ci conosciamo da tantissimo tempo So da dove è nato, so cosa sta facendo e sono curioso di scoprire dove andrà Oggi ho il piacere di avere qui con me un autore, un imprenditore, un innovatore e un visionario E qui con noi oggi Luca Ligi Benvenuto Luca Ciao Siro Ciao a tutti Oggi Luca è qui con noi per condividere un po' della sua storia Come molti di voi sapranno, già che seguono anche Luca e seguono il panorama finanziario degli investimenti Luca da zero ha costruito un qualcosa di innovativo Ma non voglio anticiparvi niente Luca, lascio a te la parola Ma dai, partire così da zero a raccontare tutto, ti chiedo se abbiamo almeno 2-3 ore di tempo Perché qualcosa l'abbiamo fatta nel frattempo Come hai detto te, sono l'autore del libro I 10 comandamenti dell'investimento finanziario Un libro di finanza personale per spiegare ai risparmiatori e ai investitori comuni i fondamentali dell'investimento E un'altra delle soddisfazioni maggiori è che ho fondato la community di investitori e risparmiatori più grande d'Italia La trovate su Facebook, si chiama Wikileaks Tutti i segreti della finale, ho fatto il gioco di parole Quindi questa è una delle soddisfazioni maggiori Perché la soddisfazione maggiore è stata appunto la fondazione di questo gruppo? Perché la nostra missione, che poi si sta evolvendo nel corso del tempo, è quello di aggiungere consapevolezza finanziaria agli italiani Ok, concedere questa consapevolezza finanziaria, aiutare ad avere maggiore consapevolezza finanziaria per investire meglio Che è uno dei deficit, se vogliamo, degli italiani, degli imprenditori e degli investitori italiani Ma Luca, non è sempre stato così per te, giusto? Cioè, un tempo, quando tu hai iniziato, cosa facevi? No, perché è bello dopo che succedano le cose raccontare Dici, no, vabbè, io ho sempre voluto fare l'imprenditore No, assolutamente no, assolutamente no E certe cose, diciamo, vengono avanti Non dico per caso, perché in realtà la casualità è qualcosa anche che ti vai a cercare Cioè, ti metti nelle condizioni di attirare una buona casualità Ok, quindi è questo Però oggettivamente, se per i miei primi 25-30 anni non avrei mai immaginato di fondare un'azienda Che nel suo piccolo, insomma, fa delle belle cose Aiuta tanti clienti a migliorare appunto la consapevolezza finanziaria Io ho iniziato con un percorso assolutamente normale Studio, diploma, ok, ho iniziato l'università e poi ho iniziato a lavorare in banca Ho iniziato a lavorare in banca, quindi che è il sogno erotico ancora di tanti italiani Nonostante effettivamente oggi le banche siano un posto di lavoro molto diverso rispetto a come la prima È sempre ambito ma è molto diverso Ci sono una serie di licenziamenti e il lavoro in sé è cambiato Ho iniziato così a 20 anni Ho iniziato a lavorare nel settore finanziario Mi immaginavo una carriera da impiegato, tranquillo Insomma, un po' come Keiko Zalone nel film Covados, giusto? Esatto, esatto Ti sei sistematico Il posto fisso Esatto, esatto La gente diceva, oh ma ti sei sistematico, grande Insomma, da un certo punto di vista, a 20 anni, 22, 23, 25 Va bene, attenzione, non sputo sul piatto dove ho mangiato E non ho neanche niente contro chi magari lotta per un posto di lavoro E per cui oggi rimarrebbe un posto ambito Assolutamente Questo messaggio contrario, sennò sembra che sia diventato Jeff Bezos, eccetera Non è così, insomma Però effettivamente l'inizio di carriera è stato assolutamente tradizionale, se vogliamo L'inizio di carriera è stato tradizionale Cioè, di cosa ti occupavi, Luca? Perché io ti conosco, no? E so che comunque si eri molto portato per le materie scientifiche, matematiche Anche all'epoca dello studio Ero bravo a scuola Eri bravino No, perché sennò quella gente, tu qui hai solo la terza media Gli haters che mi dicono che tu qua hai solo la terza media Diciamo le cose come intanto, almeno alle medie ero bravo Alla, sì, alle scuole elementari Ok, ok No, molto bravo Ma per questo poi sei entrato anche in banca, giusto? Sì, sì Di cosa ti occupavi in banca? Allora, in banca si fa un po' di tutto Tendenziano, quando parti poi, diciamo, dalla carriera da zero Fai un po' di tutto Principalmente credito, quindi il settore di creditizio Settore di creditizio è una delle esperienze in realtà più interessanti nel settore bancario È che ho lavorato chiaramente a cavallo anche del 2008-2009 Quindi la famosa crisi finanziaria derivante dai mutui su prime Mutui su prime, spieghiamo un po' cosa sono Certo Sono dei crediti, quindi dei finanziamenti In quel caso dei mutui Concessi a delle persone che poi non li hanno più rimborsati Io mi occupavo di credito, quindi so molto bene cosa succedeva in quegli anni Di credito facile, quindi di finanziamenti concessi a tutti È stato molto formativo anche poi la parte successiva Dove poi, diciamo, la bolla è scoppiata Quindi con conseguenti difficoltà Crollo sui mercati finanziari Ristrutturazioni bancarie Così, quindi un'esperienza formativa Però magari dopo 6-7 anni Basta Era il momento di cambiare Il momento di cambiare Quindi ho deciso di iniziare una carriera come consulente finanziario Come consulente finanziario autonomo Con una società mandante Perché volevo, insomma, essere un po' più autonomo Nel lavoro finanziario, insomma E come è andata quell'esperienza? L'inizio? Un schifo Ti dico la verità? No, assolutamente Siamo qui per dire la verità, assolutamente Oggi una foto giuramento Giuri su questo testo? No, ma anche mi sono anche rotto Oltre che delle persone Volevo fare l'imprenditore da 5 anni Dico, no, non ho mai sbagliato È andato sempre tutto bene Non è così Non è così, assolutamente Quindi ho lasciato la banca, no? E tu immagino lo sai dove stiamo? Siamo in Sardegna Quindi fai una scelta di questo tipo L'agione ti dice Sei scemo Cioè, è un posto di lavoro sicuro Tempo indeterminato Quindi ti mettono una roba in testa Che sei pazzo All'inizio, visto che la nuova attività Ci ha messo un po' di tempo A decollare come poi è normale che sia All'inizio pensai Ma sarò mica stato scemo veramente? Avrò mica fatto una fesseria veramente? Poi le cose hanno dimostrato Che non avevo fatto una fesseria Però all'inizio è stato assolutamente estentato Perché è semplicemente Normale Quando inizi una tua attività in proprio Hai bisogno anche di quel lasso di tempo Uno per riprogrammarti il cervello Perché il passaggio da dipendente Ad autonomo Per quanto fossi insomma Un libero professionista In quegli anni là E non un imprenditore È un passaggio importante E poi hai bisogno comunque Di acquisire nuove competenze Competenze relazionali Competenze Competenze tecniche Competenze di maglia Una serie di competenze Che nessuno ti insegna Non esiste università O posto di lavoro Che ti può insegnare Questo tipo di competenze Guardi, devi andare A cercartele tu E poi farti un mazzo Che la metà non basta Senza essere sicuro Che le cose andranno bene Perché c'è chiaramente Un concetto di rischio Ovvio Che è legato anche al mondo finanziario La gente a me mi chiede Ma voglio un investimento Che guadagno sicuro Però Che guadagno su un sacco E deve essere sicuro E mi raccomando E non funziona Non funziona così Come non funziona nella vita Per qualunque imprenditore Più di successo Ha rischiato Poteva andargli male Poteva andargli bene Gli è andata bene Ci ha messo del suo Però c'è una componente di rischio Che è il rischio imprenditoriale E il sale di qualunque attività Molto bene E quindi Qual è stato Il momento in cui Tu hai fatto un click Cioè Hai deciso Proprio di andare E metterti Un pochino improprio Insomma Quindi rischiare Prenderti questo rischio E dire Faccio questo Perché? Una motivazione Molto Interiore Insomma Non dico di malefere Il personale Mi sembra eccessivo Però un po' di insoddisfazione Il personale Questo sì Mi sono soddisfatti dopo 6-7 anni Di banca Insomma Dove all'inizio Ripeto avevo 20 anni Una cosa nuova Una cosa Anche bella e interessante Ho fatto tante esperienze Quindi va bene così Però dopo 6-7 anni Una personalità come la mia Non che sia minimamente Un genio Però semplicemente Una persona che vuole sempre Migliorare Vuole sempre andare avanti Mi ero materialmente annoiato Mi ero materialmente annoiato Ero stato disposto A abbandonare quello che ero Perché un'altra delle lezioni Che ho imparato È che non si ottiene nulla Ok? Non si ottiene nulla Se non si sacrifica Qualcos'altro Ok? Cioè funziona Non puoi avere L'uovo e la gallina Cioè funziona sempre In sostituzione Ok? Quindi ho dovuto Abbandonare la sicurezza Che mi ero creato Il posto fisso E queste cose qua Per andare a cercare qualcosa Che era completamente incerto Rispetto ai risultati Poi ci sono stati Però sul momento in cui Fai la scelta Non lo sai mai E quindi un po' questo Non è un'insoddisfazione Cioè una tendenza Al miglioramento Dai più che una soddisfazione Sembra che fossi Però Così Ti sentivi preparato Quando hai iniziato A fare la consulenza? Avevo Già 6-7 anni di banca Quindi comunque effettivamente Da un punto di vista Cioè c'è stata L'abilitazione è un albo Professionale Quindi comunque Da un punto di vista tecnico Sì Ma anche perché Insomma non è che Girino proprio questi Grandi geni Con tutto il rispetto Per tutti coloro Che fanno Questo tipo di professioni Qua per carità Però In realtà Guarda Ero più bravo Da un punto di vista tecnico Quindi Della Cioè Della materia concreta Della materia finanziaria Che da un punto di vista Di Imprenditoriale Se vogliamo O comunque di marketing Di vendita Di saperti proporre Eccetera Lì ero molto indietro Lì ero molto indietro Perché anche quelle Ripeto Sono competenze Che nessuno ti insegna Quindi finanziariamente Ero pronto Per fare la consulenza È una cosa che già facevo Quindi insomma Niente di no Ero abilitato Dalla legge Quello che vuoi Trovare i clienti Poi è un'altra cosa Perché parliamo di questo Trovare i clienti Qualunque professionista Che può essere un avvocato Un ingegnere Un consulente finanziario A meno che non erediti Uno studio Già assolutamente Diciamo sviluppato Da genitori E quello che è Deve acquisire i clienti Come qualunque tipo Di attività commerciale E se non lo so fare È il problema Non è che ti busano la porta Perché sei bravo Conosci tutte le leggi No Non ti busano la porta A nessuno Nel mondo odierno Quindi Devi andare fuori tu Quindi hai dovuto Allacciare di nuovo le scarpe Uscire fuori Da tua zona di comfort E andare a cercare Nuovi clienti Assolutamente Completamente da zero Perché insomma Anche fare il consulente finanziario È una piccolissima Attività professionale In prenditori Ecco poi Da consulente finanziario Dopo Hai fatto dell'altro Cioè Quello è stato un punto di partenza Per poi Che cosa Per fare che cosa Guarda mi sono accorto Mi sono accorto Durante l'esperienza Come consulente finanziario Promotore finanziario Ci chiamava così Promotore Esatto Adesso si chiama Consulente promotore finanziario Mi sono accorto Che effettivamente Quello che dicevano Le statistiche Le classifiche Ovvero che L'Italia fosse indietro Da un punto di vista Di alfabetizzazione E educazione finanziaria Fosse vero Non sono solo statistiche Del World Economic Forum E' reale Perché effettivamente Vedevo che Impreenditori di buon livello Di alto livello Professionisti Medici Persone Piccoli luminari Nel loro campo Persone scafate Persone in grado Di fare affari Da un punto di vista Finanziario Finanziario parliamo Di investimenti Gli investimenti Avevano un atteggiamento Spesso passivo Delegavano ciecamente Magari il loro Referente bancario Oppure aggressivo Da un altro punto di vista Magari facevano Due cose E pensavano Di sapere Chissà che cosa E che in entrambi i casi È un atteggiamento Sbagliato Durante l'esperienza Come promotore finanziario Mi sono accorto Di questo Ok E ho cercato magari Di risolvere Di aiutare Questi clienti qua Spostandomi più Dal lato divulgativo E formativo Ok La scelta di pubblicare Il libro è questo Nel libro ci sono Dieci comandamenti Che sono quelli Che una persona Deve sapere Per iniziare appunto La sua carriera Come investitor O anche C'è la comunità Un gruppo facebook Quindi è gratis Non è che Non ci faccio Nessuno paga Per stare su facebook Nel mio gruppo Ovviamente Quindi è una roba Che facciamo gratuitamente Ogni tanto ci promuoviamo Per carità Però è una roba Pro bono Praticamente Per aumentare appunto Questa consapevolezza Finanziaria qua Perché Cioè è insopportabile Andare a parlare Con persone che Con grandi potenzialità Di investire meglio Per il loro bene Sinceramente Però mancava Questa forma Di educazione finanziaria Di base Che le scuole Non lo insegnano Ovviamente Gli imprenditori I medici I professionisti Sono anche impegnati Sul loro lavoro Ed è giusto Che diano priorità Per carità A ciò che Li porta I ricavi Assolutamente Però un minimo Impegnarsi di più Per saperne di più Su come investire Per risorse personali È una cosa che ho preso a cuore Ci ho creato un'azienda sopra Insomma Quindi mosso da un Un grande perché Cioè il perché Individuato una carenza Di mercato Anche molto banalmente Eh ma Era anche una richiesta Magari di aiuto Dei piccoli imprenditori È Del Una richiesta sorda Si sveglia Adesso voglio Voglio formarmi Finanziariamente No Però Esatto È una domanda Quanti anni fa Hai iniziato Luca Hai iniziato a divulgare Quindi a creare la community Perché prima è arrivato il libro Giusto? Facciamo una cosa all'anno Praticamente Ok L'unica cosa è stato il gruppo Il gruppo Facebook Effettivamente ha quattro anni Ah quindi prima il gruppo Esatto Prima il gruppo Perché Si poteva fare così tranquillamente Prima un gruppo Facebook Invitiamo due amici Vediamo che qualcuno mi ascolterà Siamo più di 16.000 Adesso all'ultimo All'ultimo conteggio Quindi prima cosa è il gruppo Ok Poi l'anno seguente Quindi quattro anni fa il gruppo Tre anni fa il libro Ok Due anni fa abbiamo iniziato I primi percorsi formativi Con l'X-Strategy Con i corsi Newsletter Abbonamenti eccetera L'anno scorso abbiamo strutturato Anche meglio l'azienda Siamo ormai più di Più di dieci persone E lavoriamo in mobilità Quindi stiamo crescendo così È Una cosa all'anno Anche perché Come negli investimenti Ci vuole tempo Anche per creare Una realtà imprenditoriale Che per quanto Piccola Per gli standard Magari dei grandi imprenditori Sta crescendo Ci vuole tempo Comunque anche per Per avviare E per consolidarsi Insomma Scusa Luca Mi viene spontanea Allora una domanda All'interno di questa community All'interno di questo gruppo Di che cosa si parla? Finanze e investimenti Per inizio Perché Il nostro focus è qua E capirai bene Che essendo comunque Una materia che si basa Sulla Anche sull'informazione Non mancano Generalmente cose Di cui parlare Noi Un nostro Modello Che replichiamo spesso È semplicemente Prendere spunto Da una notizia Che può essere Di interesse Per i nostri Per i nostri utenti E spiegarla anche Spiegarla Con parole semplici Ma spiegarla anche Per ciò che serve Al risparmiatore Perché in realtà Che noi Non insegniamo A fare trading Non insegniamo A diventare Dei grandi gestori Di hedge fund Perché non serve Al comune cittadino Dove per comune cittadino Intendo anche La persona che ha 100 200 300 500 100 mila euro Un milione Siamo sempre In un'ottica Di persone Normali Parliamo di Super miliardari Ferrero Berlusconi O Bezos Insomma E quindi un po' Il discorso è questo Parliamo e spieghiamo Di concetti Legati al mondo Finanziario Che non Abbiamo reputato Fosse Qualcosa Che mancasse Esatto Luca Ma quindi Hai creato Una community Hai scritto Un libro Hai creato Delle piattaforme Dove le persone Si possono formare Ma per fare Tutto questo Ok Hai iniziato Da solo E poi trovato Delle persone Che hanno sposato Il tuo scopo Quindi aiutare Le altre persone Sull'investimento Finanziario O Come hai fatto Cioè ci puoi spiegare Lo step Questi step qua Sì Allora Ho iniziato da solo Acquisendo Le competenze Necessarie Almeno per fare Un prototipo Di mini aziende Quindi competenze Basilari Di marketing Competenze Di vendita Competenze Di All'inizio della carriera Facevo tutto da solo Mandavo le email Gestivo il blog Tutto da solo Tenevo tutto in piedi Con Perché ovviamente Ero da solo All'inizio Eccetera Quindi Ho acquisito Le informazioni Da Da vari informatori Le informazioni online Eccetera Su come si potevano Fare queste cose Piano piano Chiaramente Ho acquisito L'attenzione Di tante persone Clienti Ma anche persone Che magari Volevano iniziare A collaborare Gli piaceva Quello che facevo Gli piaceva Come lo facevo Perché comunque Abbiamo un taglio Completamente nostro Nella divulgazione E quindi E' stato anche Abbastanza naturale Attorniarsi Di persone Che potevano Condividere Questa tua Missione Perché alla fine Poi è diventata Anche una missione Quindi l'idea iniziale L'ho avuta io Però attenzione Ho anche il reputato Sin da subito Che dovevo Attorniarmi Di persone Più bravi di me Più bravi di me No perché C'è la mania Dell'imprenditore Visto che ha fondato lui Ha avuto magari L'idea L'idea Fulminati Vuole fare tutto lui Vuole accentrare tutto lui E' più bravo lui A fare tutto Cosa che ovviamente È impossibile Io sono bravo A fare la ricerca In ambito finanziario A parlarne In modo semplice Guarda quello che so fare Ed è quello che mi devo Concentrare a fare Come Come imprenditore Una delle bravure Magari Non mia in particolare Però Uno dei consigli Che posso dare È quello appunto Di iniziare Molto Molto presto A reclutare persone Più brave di te In altri In altri ambiti Che possono servire Alla vita aziendale Che non è solo Erogare il prodotto Ma Un'azienda È fatta Di tanti altri Tanti altri settori E quindi poi ci siamo Insomma Abbiamo Organizzato meglio L'azienda Insomma E da lì Insomma Siete cresciuti Adesso Quanti componenti Ci sono In azienda Con te Luca Siamo una decina Siamo una decina Una delle nostre caratteristiche È che Siamo un'azienda digitale Ok 100% digitale Anche perché Diciamo I nostri prodotti Sono dei prodotti digitali Videocorsi E abbonamenti Quindi newsletter Finanziarie È un'azienda digitale Dove ognuno lavora Materialmente Dove sta Quindi abbiamo Il nostro marketing director Sta a Londra Lorenzo Un altro dei nostri editor In Polonia Alcuni sono in Italia Io sto a Malta Per esempio Quindi ognuno lavora In mobilità Questo È un valore Da un certo punto di vista Magari In futuro Potremmo anche Di creare Un nucleo fisico Però nel frattempo È stato utile Magari anche Per partire Per partire così Molto agili Questo è il concetto Luca Luca Ovvio che Adesso Si è arrivato Un punto Anche Di grande sviluppo Quali sono I tuoi piani Cioè Cosa prevedi Da qui A cinque anni Sono top secret Che qua ci sente La concorrenza Poi vuole andare Scherzo 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 Guarda Non sono In realtà Un grande Un grande fan Di una Super pianificazione Per quanto la insegni Da un punto di vista Finanziario Perché c'è una pianificazione Finanziare Deve investire Per il lungo termine Deve avere chiaro Questi tipi di obiettivi qua Cosa ti posso dire Uno degli obiettivi Che mi sono messo Ora C'è una delle competenze Che sto cercando Di acquisire È quello di migliorare Appunto Nell'organizzazione Dell'azienda Perché ripeto È una competenza È una competenza In sé questa E non te lo insegna nessuno Ma ci sono delle scuole Di formazioni Come la vostra Grazie Assolutamente Però Non è che te lo insegnano a scuola O ci nasci Adesso gestisco un'azienda Non hai mai avuto Esempi in famiglia Perché i miei genitori Non sono assolutamente Imprenditori Quindi sono competenze Che devi acquisire Per migliorare costantemente Quindi Se vogliamo Da un certo punto di vista Fare un primo exploit Quindi Avviarsi bene È relativamente facile Poi non è facile per niente Però Diciamo così È relativamente facile Confermarsi Consolidarsi È più difficile Secondo me È molto più difficile E quindi Insomma C'erano belle sfide Per gli anni prossimi Anche per cui La concorrenza In calza Chiaramente Iniziano ad arrivare Magari un po' Di rotture di scatole Di chi ti odia Fa parte del gioco Per me è divertentissimo Sinceramente Non perché voglio fare Arrabbiare di proprio Tutte le persone Però sinceramente Ho un messaggio Che è molto chiaro Ad alcuni Sta molto bene Infatti sono miei fan Diventano miei clienti Ad altri Sta molto male Mi odiano Bene così Meglio che essere Mediocre nel mezzo E quindi Consolidarci Consolidarci Che è un'ulteriore Un'ulteriore bella sfida Bene Luca Insomma Ti ringrazio Perché comunque La tua storia Tocca un po' Anche tutti quei piccoli Imprenditori O quelle Quelle figure Che vogliono iniziare Qualcosa Un grande progetto Infatti Durante questa Piccola intervista A questo momento Passati insieme Ho notato molto Che Hai parlato di Cercare la conoscenza Partire E non stare fermo Mettersi le scarpe Allacciarsene Andare fuori Fuori dalla zona Di comfort Per trovare Delle occasioni E questo diciamo Che è una spinta iniziale Io per questo Luca Ti ringrazio E anzi Ti invito Nuovamente A stare qui con noi Ok Per parlarci Di qualcosa Di più tecnico Ok Luca Grazie mille Grazie a te Ciro Ragazzi Ci vediamo Alla prossima puntata Di Mab Business Stories Grazie a te Grazie a te Grazie a te